E' terminata la Ultra Norway Race, una gara non-stop zain e spalla completamente in autosufficienza tenutasi tra il 19 e il 21 luglio. Una gara complicatissima in cui i concorrenti gareggiavano in coppie. Un totale di 123 km dalle Alpi di Lingen al lungomare della città di Tromsø, in Norvegia, a cui è partecipato anche l'ultra maratoneta di Sala Consilina Giuseppe De Rosa. Il percorso prevedeva l'attraversamento di alte montagne affacciate sui magnifici fior di blu, a 350 km dal circolo polare artico, dove le temperature variano tra i 5 e i 10 gradi in questo periodo. Gli atleti che dovevano registrare il loro passaggio dei checkpoint posti lungo il percorso sono stati dotati dall'organizzazione esclusivamente di un GPS per potersi orientare tra le montagne. L'attreta valdianese, già due volte campione del mondo, si è classificato al quinto posto. Nella gara organizzata dalla francese Canal Aventure, De Rosa è stato supportato dal gruppo cardinale, che ha sempre creduto nelle imprese del campione valdianese, sostenendole e finanziandole, oltre che da cosili in auto. Giuseppe, nell'esprimegli la sua gratitudine, li definisce amici e sostenitori di sempre. Riguardo alla gara appena conclusa, De Rosa ha dichiarato Sono contento di aver partecipato alla competizione norvegese perché ho potuto accumulare punti per quello che è l'obiettivo che mi sono prefissato fin dall'inizio, essere l'unico al mondo a ricevere per tre volte il titolo di campione del Rodsing Continental Challenge. Questa è stata la prima gara del contest, ma il mio pensiero va già alla prossima competizione, aggiunta l'ultramaratoneta, che mi porterà il prossimo settembre in Bolivia. Inoltre nel 2025 mi metterò alla prova con altri tracciati molto impegnativi che mi porteranno tra gli altri in Vietnam, Australia e Mozambico.